Nel settore degli investimenti immobiliari stiamo assistendo a un'importante evoluzione. Dopo anni in cui ci si è concentrati sulla componente ambientale degli ESG, quindi sulle performance ambientali, adesso l'astenzione si sta spostando sulle performance di carattere sociale e quindi c'è molta più attenzione nel visurare gli impatti che gli investimenti immobiliari hanno sulle città in cui vengono realizzati. Quindi quanti posti di lavoro creano, per chi, che tipo di welfare e servizi territoriali contribuiscono a generare, quanti nuovi spazi pubblici e spazi verdi o insomma metrature che vengono messe a disposizione con canoni calmerati, vengono insomma create e questo è molto importante perché contribuisce a generare socialità ed economia radicata localmente ed è qualcosa su cui che il mondo e la società civile si aspetta di vedere dal mondo immobiliare. Quindi vedremo dove ci porterà questa evoluzione del settore, si stanno sviluppando degli indicatori, se il mercato oggi riconosce un valore alla componente ambientale c'è una forte attenzione che si sta direzionando da quest'altra parte ma ancora non sono chiari quali indicatori utilizzare per misurare questo sforzo. Come From insieme a Confindustria Asso Immobiliare abbiamo fatto una ricerca per capire qual è la percezione degli operatori e dove si stanno direzionando, quindi a breve verrà rilasciata un importante upgrade delle metriche che si possono utilizzare.